Salve, sono Giuseppe di Vianderacosta, sono arrivato subito perché ho sentito la notizia al telegiornale, sono dispiaciuto per la morte di Lucio Dalla, mia madre stava mangiando a pranzo, mia madre ha sentito la notizia al computer, oggi devo anche andare dal mio psicologo, non ci vado, mi dispiace per lui, l'avevo visto ultimamente da Carella, vi ringrazio. Da Carella il giornale è notturno, prima che partisse per la tournée in Svizzera, ho sentito che c'è stato un tonfo nel, non in cantina, in bagno, si era ritirato un attimo in bagno mi sembra, non so. Ma voi vi conoscevate? No, no, venivo sempre qui a vedere se lo potevo intervistare, cioè, più che intervista volevo qualche suo disco, soltanto che era sempre in tournée, non so. Quindi non vi siete mai incontrati? No, non ci siamo mai incontrati, venivo qui ma diceva che era sempre in tournée, non so. Mi dispiace, non l'avevo visto neanche a Sanremo, non l'avevo visto. Prego, grazie.